Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi voglio parlarvi di un Kickstarter perché vogliamo portare avanti una rubrica con i migliori Kickstarter che ovviamente di quelli ancora in atto che si possono fare o di quelli anche che usciranno comunque sempre tutta roba che poi vi lasciamo link, potete trovare direttamente sul sito dei Kickstarter di quelli più belli appunto che ci hanno suscitato l'interesse ma che magari abbiamo visto che sono anche quelli più gettonati dove c'è tanto interesse della community Oggi vi parliamo del gioco ufficiale del board game di The Boys This is going to hurt, questo farà male Ed è un Kickstarter molto interessante in un gioco competitivo che vi vedrà appunto in diretta competizione fra di voi ma per ultimo anche con il cattivissimo Patriota che dovrete riuscire a sconfiggere Comunque ve ne parlo a breve dopo la sigla The Boys This is going to hurt è un Kickstarter che è stato aperto il 23 novembre quindi non so quando farò uscire questo video ma comunque in tempi brevi appunto quindi è uscito da pochissimo tempo con un obiettivo di quasi 42 mila dollari e in questo momento quando ve ne sto parlando che sono passati a mala pena una settimana ha già superato e quasi è arrivato al budget di 50 mila dollari quindi veramente veramente ha già superato quello che chiedevano quindi il pubblico è molto interessato Il gioco di cui parliamo oggi appunto The Boys è basato sul fumetto non sulla serie televisiva ci sono tante somiglianze però ovviamente la serie televisiva come anche quella di Game of Thrones si è permessa il lusso di cambiare alcuni aspetti oppure limarli un pochino, modificarli Il gioco da tavolo che vi proponiamo invece è basato interamente sui fumetti Fumetto di Gar Tennis e Derek Robertson che sono sotto licenza della Dynamite Entertainment e questo è la primissima release della One First Games che è la sorella della One First Comics che sono appunto quelli che hanno creato il fumetto dei boys quindi si sono fatti le cose in casa è un competitivo da 2 a 5 giocatori e ogni partita si va dai 60 ai 120 minuti che poi sono sempre numeri messi indicativi così perché da 60 ai 120 insomma è un po' a libera interpretazione diciamo che una partita dovrebbe durare più o meno su questo tempo ciascun giocatore riveste panni di un agente della CIA e per quanto ve l'ho detto non è un gioco cooperativo ognuno gioca per conto suo però l'obiettivo di ciascuno finale è quello di buttare fuori, far fuori patriota come fai a combattere un superman malvagio come patriota, indistruttibile e tutto quanto dovrete reclutare pagandoli magari cose del genere o con la forza ricattandoli dovrete pagare un gruppo di supereroi come si è visto anche nella serie televisiva e questi supereroi vi dovranno dare una mano appunto ad arrivare al vostro obiettivo finale viene fatto vedere nei primi 3-4 episodi della serie televisiva comunque se non riuscite a pagarli a ricattarli e a farli venire dalla vostra parte c'è la possibilità di averli, di pagarli tramite la droga V che è un qualcosa, una droga particolare che si iniettano, le rendono anche più forti, più prestanti come se già non lo fossero abbastanza i supereroi e quindi dovete voi farvi questa squadra dei supereroi per andare a combattere patriota ci saranno addirittura 80 tantissimi personaggi unici e una serie di oggetti praticamente infinita che sono tutti quanti estrapolati direttamente dal fumetto la cosa cattiva di questo gioco è che ve l'ho detto è un gioco competitivo quindi non è tanto andare a sabotare le azioni di quell'altro giocatore è quanto fare al meglio le vostre per sconfiggere appunto il boss finale che ve l'ho detto che è quindi quando voi farete vi sentirete in grado di affrontare patriota il gioco diventa il più cattivo possibile perché quando voi andate a combattere patriota quindi avete le vostre armi, equipaggiamenti magari anche la giusta squadra dei supereroi che vi danno una mano andate a sfidare patriota se lo sconfiggete bene voi avete vinto, non gli altri giocatori voi avete vinto sconfiggendo patriota avete salvato il mondo dalla sua tirannia perché poi la team fine è un pazzo scellerato se invece andrete a perdere quindi nella vostra azione finale patriota dovesse sconfiggervi distruggervi ammazzare il vostro gruppo di supereroi e voi compreso non avrete perso soltanto voi la partita e gli altri giocatori possano andare avanti tutti i giocatori hanno perso quindi ci rimette il mondo è quella la cosa cattiva quando andate a fare l'azione finale cercate di vincerla perché se poi venite sconfitti andate a sabotare il gioco di tutti perché vince uno solo o perdete tutti insieme è cattivissimo come cosa e mi piace che poi dallo stesso Kickstarter io mentre parlo vi faccio vedere anche un po' la pagina e tutto quanto si evince che gli oggetti che potete trovare con cui equipaggiarvi per andare a fare la sfida finale si possano acquistare anche dal black market quindi dal mercato nero in gioco ve l'ho detto nei piccoli sabotaggi che vi ho spiegato prima non c'è un avere proprio pvp diretto fra giocatori però se un altro giocatore vi ha portato via vi ha sottratto un supereroe un personaggio che a voi interessava potete cercare di sabotarlo per portarlo dalla vostra parte quindi è possibile anche fare una cosa del genere è un gioco dove la soglia minima di età si va dai 17 anni in su ovviamente ragazzi The Voice è quanto di più truce possibile mi ricordo apro una piccola parentesi anni fa quando lessi il fumetto e vidi il film bellissimo che tra l'altro è uno dei miei preferiti di Watchmen dei Watchmen già lì mi sembrava era un po' una visione in chiave un po' oscura dei supereroi ma soprattutto un po' violento anche forse soprattutto il fumetto non nemmeno tantissimo violento però scompariva quell'uomo ragno che salva tutti scompariva quel Capitano America che ci va a rimettere la vita a un Iron Man per salvare il mondo lì sono dei supereroi con tutte le loro debolezze perché poi un supereroe non ha debolezze o comunque la maggior parte almeno non ne hanno o non ne danno a vedere in The Boys sono gente comune ma anche peggio perché sembra un po' la storia del povero arricchito di quello che ha dei superpoteri e ne vuole fare uso e non ne frega nulla un po' come persone i vampiri del Sabbat parlando di vampiri io ho questi poteri io li voglio utilizzare del mondo non me ne frega niente sono un dio sceso in terra quindi non è un argomento che puoi presentare anche a ma anche per i disegni per il tipo di tema trattato a un ragazzino quindi l'età ed è difficile perché anche dei giochi un po' più truci tipo Nemesis dove bisogna buttarsela in tasca e l'alieno è pronto a sbranati non c'è mai un'età dai 17 anni in su ma nemmeno nei giochi horror Last Friday quindi metterlo già dai 17 anni in su insomma il tema trattato è abbastanza scottante ora vi parlo un pochino nel frattempo poi tanto avete visto la pagina e tutta vi parlo un po' dei vari pledge che ci sono in questo Kickstarter ancora aperto nel pledge base che viene 60 dollari avete la versione retail del gioco che la versione retail è quella che poi forse penso dopo il Kickstarter troverete in vendita anche nei negozi separatamente quindi è una versione che potete avere tranquillamente ovunque e in questa versione qui avete le 5 pedine dei giocatori in cartonato quindi non sono pedine 3d vere e proprie di plastica sono dei cartonati avete il tabellone di gioco la mappa più tutti quanti i componenti la versione quella dopo da 110 dollari è la versione deluxe pledge che ha sia la versione retail che vi ho detto prima dentro con i sagomati i tabelloni di gioco e tutto quanto ma anche questa volta 5 miniature quindi ciascun giocatore avrà 5 miniature in plastica tra l'altro anche molto belle più il quello lo voglio il busto del patriota di 14 cm tutto messo così bello con il fisico spettacolo più tutti quanti gli stretch goal che non solo hanno delle carte aggiuntive ma più avanti metteranno anche verranno sbloccate anche le miniature di starlight e di queen mavi quindi c'è veramente un miv insomma come si chiama quindi avrete anche delle miniature in più ultimo pledge ma non meno importante anzi da 180 dollari avrete la deluxe edition che non è la deluxe pledge è proprio la deluxe edition quindi non confondete magari i nomi anche andando a leggere più copia digitale autografata avrete tutte le cose ovviamente elencate finora il The Boys di Arbeki con copertina ovviamente tutto quanto autografata e in più la copia digitale autografata dai due autori appunto del fumetto ragazzi questo era per presentarvi un pochino questo kickstarter di The Boys che è un titolo molto interessante è il primo gioco ufficiale della serie di fumetti fatto dagli stessi autori quindi non c'è nemmeno da dire un gioco fatto da qualcuno queste sono le cose migliori magari però hanno preso i diritti per fare la serie tutto quanto no è proprio fatto dagli stessi autori del fumetto e se siete secondo me fanatici anche perché no della serie televisiva non ve lo potete assolutamente far scappare da un kickstarter che farò assolutamente primo link in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate ed è veramente veramente molto interessante dateci un occhio ragazzi e nei prossimi episodi di questa serie di kickstarter vi faremo vedere tutti i giochi secondo noi più interessanti ciao ragazzi alla prossima ciao